La Regione Campania fa il punto della situazione sulla campagna vaccini. L'unità di crisi regionale, riunitasi per un'analisi complessiva della situazione pandemica e per l'aggiornamento del piano vaccini, ha comunicato che ad oggi è stato vaccinato circa il 90% del personale scolastico e il 95% del personale sanitario. Attualmente è in corso e sarà intensificata la campagna vaccinale per gli ultraottantenni e gli ultrasettantenni. Parallelamente è già partita la campagna vaccinale riservata alle categorie fragili, come da protocollo ministeriale con vaccino Pfizer. Per la prossima settimana è stato annunciato al Commissario di Governo l'invio in campagna di un quantitativo maggiore di dosi, che consentirebbe di accelerare e aumentare il numero di vaccinazioni. Per AstraZeneca la campagna, come altre regioni italiane, è in attesa del nuovo via libera alla somministrazione a livello governativo. In relazione alla vaccinazione della categoria dei fragili, l'unità di crisi ha aggiornato oggi il piano vaccinale della regione Campania, che sarà pubblicato sul sito istituzionale, nel quale viene confermata e integrata la procedura di adesione che riguarda tali categorie. Il dato sostanziale è che non tocca ai pazienti fragili, né ai loro conviventi o assistenti, la procedura di adesione sulla piattaforma regionale. È previsto pertanto che i medici di medicina generale individuino, tra i loro assistiti, coloro che appartengono alla categoria di elevata fragilità, registrandoli sulla piattaforma e certificandone lo status. Contestualmente è previsto che gli appartenenti alla categoria di elevata fragilità possono essere registrati e vaccinati dalle aziende ospedaliere o i centri regionali di riferimento che li hanno in ricovero. Si conferma altresì che da domani, mercoledì 17 marzo, sarà aperta, come già comunicato, la piattaforma per l'inserimento, da parte dei medici di medicina generale, delle adesioni dei pazienti delle categorie fragili.